Ciao, sono Filomena Calzone, lavoro al Politecnico di Milano da sei anni, sono una Research Project Manager. Nel mio lavoro ho supporto i docenti, i ricercatori nell'approccio ai progetti finanziati. Li supporto dalla fase di proposal fino alla fase di approvazione, gli step burocratici, ma soprattutto seguo gli aspetti economici e finanziari legati ai progetti e alla loro rendicontazione. Qui a Milano mi sono trasferita a studiare Economia e Management, ho studiato in Bocconi. Mi sono appassionata alle tematiche di innovazione e ho capito che avrei voluto mettere quelle competenze al servizio di qualcosa che per me avesse un senso, ma qualcosa di più. In realtà sono cresciuta un po' con il mito del Politecnico di Milano, nel senso che mio papà ha studiato qui ed è diventato un ingegnere nucleare. Ci ha trasmesso a me e ai miei fratelli questo grande senso di rispetto e di stima per questa istituzione che per lui ha significato sempre tanto. L'ambiente di lavoro del Politecnico è vero a suo modo unico. Qui la sensazione prevalente per me è quella di essere in una grande famiglia, perché c'è un grande calore e vicinanza nelle relazioni e questa familiarità si rivela una forza quando dobbiamo performare nelle attività perché c'è questa unione di fondo. Allo stesso tempo, nonostante sia una realtà così piccola, quasi intima, c'è l'opportunità di essere in un posto estremamente internazionale. Nel mio lavoro capita spesso infatti di avere opportunità di collaborare con enti sia pubblici che privati, sia università, centri di ricerche, ma anche imprese, piccole, medie e grandi, di tutta Europa. Questo sicuramente è un aspetto che mi piace tantissimo di questo lavoro. C'è molta possibilità di inclusione e spazio per chi vuole fare nel poter dare il proprio contributo ai processi di miglioramento dell'organizzazione e proprio anche il contributo individuale dal proprio punto di vista, dalla propria prospettiva e l'insieme delle varie prospettive che in realtà possono fare e secondo me fanno la differenza all'interno di un'organizzazione come la nostra. Innanzitutto passione perché è la forza, è il motore che davvero spinge le persone che fanno parte di questo posto. Un'altra parola è professionalità perché siamo veramente in un contesto dove quotidianamente ci interfacciamo con degli esperti, dei grandissimi professionisti nel loro ambito. E la terza parola invece è comunità. È il termine più rappresentativo di come si percepiscano le persone che fanno parte del Politecnico. Sono Apolini perché mi piace raccogliere le sfide, dare il mio contributo per rispondere alle sfide e imparare a leggere il futuro e possibilmente anticiparlo. E secondo me è molto, davvero molto entusiasmante poterlo fare in questo momento storico così importante che sta vivendo la ricerca. Grazie a tutti.